Ma, Pierpaolo, ci stiamo lasciando un po' andare, visto che la Pixar ci ha catturato, quindi cerchiamo di riprendere, di parlare ancora di altri film che usciranno al cinema e sempre nella stessa settimana vi segnaliamo un altro film che sulla carta troviamo interessante, che è Barry Seale, il nuovo film con Tom Cruise. Il secondo film di Tom Cruise nell'annata, non è da poco, l'ex ragazzo. L'ex ragazzo, ultimamente al cinema si fa vedere spesso e volentieri e personalmente anche con buoni risultati. Certo, lui è sempre un attore che gira in quel filone action, spy, un po' commedia e poi, insomma, è un attore che è da 30 anni sulla cresta dell'onda. Quindi, io ne sono assoluto estimatore e attendo sempre con particolare interesse i suoi film. Ma parliamo di Barry Seale e di Doug Liman. Sì, Barry Seale, nella carriera di Tom Cruise, questo è un po' un unicum perché è un film abbastanza serioso, tratto da una storia vera, che è la figura appunto di questo, la storia di Barry Seale, un pilota d'aereo che è diventato protagonista della politica americana e della storia americana dalla fine degli anni 70 fino alla metà degli anni 80, perché lui viene ingaggiato dalla CIA per diventare il corriere di armi durante la politica di Carter per armare i Contras in Nicaragua, poi verrà soldato dal cartello di Medellin per trasportare droga in America, verrà soldato quindi sempre dalla Casa Bianca di Reagan per combattere il cartello di Medellin. Insomma, questa figura di un personaggio che riesce a rimanere in piedi in mezzo alle politiche che cambiano, perché dai democratici ai repubblicani, dai trafficanti di droga a quelli che combattono i trafficanti di droga, potrebbe essere una bella figura italiana, di tanti personaggi che abbiamo visto magari interpretati, faccio un paragone che non sta in piedi, ve lo dico, da Alberto Sordi, cioè di quei personaggi che malgrado quello che accade non stanno sempre in piedi, e invece è una figura di un americano effettivamente esistita in quegli anni e che muore ammazzato dal cartello di Medellin nel 1986, non ricordo bene, se l'andate quella comunque siamo da quelle parti. Il film è un film molto interessante da questo punto di vista perché ci racconta un pezzo di storia americana che magari ci siamo dimenticati o che abbiamo visto solamente in modo distratto guardando Narcos in tv o guardando altri film. Non è la prima volta che il cinema si getta su questa figura di Barry Seed, perché ci sono altri due o tre film nel passato che riguardano appunto il personaggio, perché è un personaggio da cinema, diciamo così, letterario. Sì, è vero, tra l'altro la cosa buffa è che proprio negli ultimi due, barra tre anni, almeno per quanto riguarda la distribuzione italiana, sono usciti già un film, è uscito un anno e mezzo fa, che si chiamava Escobare, e c'era Benizio del Toro che interpretava proprio Escobare ed era molto, molto bravo. Deve uscire un altro film che si chiama Pablo Escobar, proprio quest'anno con Javert Bardem, e adesso abbiamo un film collegato. Voglio dire, Escobar già esisteva come personaggio. In questi tre anni è scoppiata la moda a merito? Beh, ma no, la serie Narcos ha fatto molto, bisogna ammettere. La serie Narcos, che è una serie realizzata benissimo, ha riportato un po' l'attenzione su questa figura, e come se fossero tanti spin-off, nascono anche tante altre cose da questa figura di un personaggio assolutamente negativo, ma come tutti i personaggi negativi... Suscita interesse. E certo, perché sì, insomma, sono i cattivi che piacciono più dei buoni normalmente, e al cinema, così come in letteratura, nel fumetto, un po' dappertutto, sono quelli che attirano l'attenzione. Barry Seed è un film che si preannuncia interessante. Continuiamo, grazie per questo, diciamo, excursus del film e del personaggio, continuiamo con la nostra carrellata di film di settembre, adesso vi parliamo di un altro film atteso, che è Valerian e la città dei mille pianeti, nuovo film di Luc Besson, in uscita il 21 di settembre, nei cinema, ovviamente, italiani, che in America è già uscito, e purtroppo segnaliamo che è stato un grosso flop da parte di questa megaproduzione, tra l'altro detiene un record, cioè la prima megaproduzione ad altissimo budget, si parla di un budget europeo di circa 180-200 milioni di euro, che sono veramente una montagna di soldi per un film prodotto in Europa, ed è stato prodotto anche nei nuovissimi studios di Parigi, ovviamente sotto la completa visione, il lavoro di Luc Besson, che anche è produttore, regista e sceneggiatore del film. Cosa possiamo dire, Pierpaolo? Beh, è tratto da una graphic novel, da una serie di fumetti che hanno... Noi in Italia non abbiamo mai avuto la passione delle avventure di Valerian e di Lorelen, questi due agenti spazio-temporali, ma in tutto il mondo franco-belga sono dei veri propri miti, perché il fumetto pensato da Maizière, anzi disegnato da Maizière, e pensato da Pierre Christen, è un fumetto che esiste dal 1967, è andato avanti fino a una decina di anni fa, scarsi, pubblicato prima sulla rivista Pilot, quella francese classica del fumetto, che è anche una pubblicazione italiana, ma soprattutto 21 volumi. Quindi c'è una vita notevole per questo fumetto, e come ormai da un po' di tempo accade, le graphic o le avventure a fumetti diventano poi film. Ma di cosa attacca questo film? Allora, anzitutto vorrei dire che è un vecchio sogno nel cassetto di Luc Besson, nel senso che lui l'aveva già meditato negli anni 90 questo film, al tempo, infatti, se vedete i trailer, vedete le clip, noterete una certa somiglianza con il suo film di quegli anni, che era il quinto elemento, ma lui riconobbe che allora non si poteva fare un film del genere perché mancava la tecnologia per potere. Adesso che c'è la tecnologia, adesso lui a Volo Studios si è dedicato a questo progetto. Il film di cosa parla? Parla di, appunto, due agenti, come hai anticipato tu, Valerian e Lorien, agenti dello spazio, siamo in un futuro che hanno il compito di, diciamo così, controllare la situazione dei pianeti dove vivono e dove fanno il loro lavoro e, in particolar modo, loro si soffermano su un pianeta che si chiama Alpha, anzi, una città, chiedo scusa, una città che si chiama Alpha, nota per essere molto all'avanguardia e soprattutto dove tantissime specie diverse provenienti da pianeti differenti riescono a vivere in comunità, in simbiosi, in una pace, direi anche abbastanza utopica. Infatti, già dalla tematica si sente che è un film degli anni Sessanta. Però c'è qualcuno, ovviamente non dico chi, che cerca di far vacillare questa pace, questa serenità e questo grande sviluppo tecnologico. Allora cosa succede? Il comandante militare di Valerio Lorien dà a loro due dodici ore di tempo per cercare di capire da dove viene questa minaccia e quindi risolvere questo caso perché sta creando dei problemi anche alle città attorno e ai pianeti attorno. Sulla carta si presenta, direi come, un film di fantascienza pura che punta anche a una certa spettacolarità. Io ho visto qualcosina a Luca Comics dell'anno scorso e è un progetto che mi ha incuriosito anche se lo trovo forse un progetto altamente ambizioso per, diciamo, fare concorrenza proprio nel mercato americano. Anche se c'è da dire che film del genere sono concepiti per essere distribuiti in tutto il mondo. Cioè le megaproduzioni adesso, se anche in un mercato umano benissimo, possono trovare nuova linfa vitale in altri mercati. Basta pensare a Russia, Cina, Brasile che sono i paesi in maggiore sviluppo, anche il cinema ha trovato nuovi incassi, nuovo botteghino e nuova linfa. Per ora... Sì, Besson, poi, insomma, l'hai detto anche prima, non è proprio un pivello e lui è capace di gestire anche grossi budget e quindi probabilmente insomma, non sarà stato difficilissimo per lui. L'insuccesso americano non fa ben sperare. Ho visto anche, ho notato nei due trailer che sono passati uno prima dell'estate e uno che sta passando adesso che hanno voluto dare nel trailer due tagli differenti perché nel primo trailer era molto scanzonato, quasi divertente, molto giocoso. Il secondo trailer è molto serioso invece, quasi cupo. Quindi, come dire, cerchiamo di prendere tutto il pubblico possibile per attirare e vedere un pochettino quello che sarà. Siamo curiosi anche per questo. Assolutamente, anche perché comunque la prima cosa che, così appunto guardando i trailer che ho apprezzato e che ho incuriosito anche la capacità di dare che non è una cosa facile soprattutto in un trailer una clip dare un'identità al mondo. Cioè, io l'ho visto ho capito che c'era qualcosa di vero, di credibile oltre al fatto alla quantità di mostri che vengono proposti e direi abbastanza atipici o comunque anche loro dotati di uno spesso cioè non ho pensato ah ma questo è derivato da quest'altro film no, gli ho visto ho trovato una sua identità per quello il film mi ha incuriosito. Dall'altra parte mi ha fatto un po' pensare a John Carter ovvero un altro film di fantascienza secondo me molto interessante è uscito qualche anno fa mega produzione quella era Disney che però non ebbe successo al botteghino anzi fu un flop quindi io mi auguro non faccia quella fine ma lo vado a vedere con assoluta curiosità anche perché Luc Besson quando vuole fare il regista e ha tutto in mano in controllo la situazione secondo me è un regista da non sottovalutare Senti ma da Venezia invece arriva ancora qualcosa finalmente per settembre Sì chiudiamo con un film che arriva a fine settembre il 28 settembre che è Mother Madre che è il nuovo film di Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence un film di cui si sa pochissimo perché appunto deve essere presentato in questi giorni a Venezia la trama scarna nel senso che quanto meno scarna scarnissima scarnissima perché si sa solo che la storia di una coppia abbastanza giovane trentenne che improvvisamente si trovano in casa delle persone che conoscono però succede un mezzo dramma succede qualcosa scaturisce qualcosa che non sappiamo perché il film non l'abbiamo ancora visto per cui la loro tranquillità la loro serenità la loro vita quotidiana verrà messa a durissima prova e quando intendo durissima prova tenendo conto che stiamo parlando di Aronofsky ovvero il regista del cigno nero un regista che a me piace da impazzire mi sa che ci troveremo di fronte a un bel dramma psicologico bello sì ma qua siamo quasi quasi dalle parti dell'horror sì forse sì eh sì siamo siamo dalle parti anche di un che ne so un Rosemary's Baby alla Polanski ma magari magari da queste parti ma di Aronofsky noi insomma ci aspettiamo sempre il capolavoro perché il capolavoro per Aronofsky è sempre dietro l'angolo quando ci arriva lo sfiora con il cigno nero poi subito dopo cade con Noah però vabbè ci sta come se nel passato aveva stupito con The Wrestler grandissimo film per poi toppare con The Fountain sì cioè insomma anche lui ha una una carriera che è un po' così questo questo film sembra molto interessante a partire già dal cast perché a fianco di una Jennifer Lawrence in grandissima scesa ci sono altri un altro paio di attori che io rivedo volentieri che era un po' di tempo che non si vedevano al cinema ovvero Michelle Pfeiffer che è sempre bello vedere Ed Harris e poi Javier Bardem che è un'altra un'altra sicurezza verissimo 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 anche Javier Bardem che di recente è proprio anche lui molto molto presente al cinema lo sarà appunto in questo film come abbiamo detto prima in Escobar e lo è stato questa questa primavera con il quinto capitolo dei Pirati dei Caraibi e con questo è tutto chiudiamo questa nostra prima rubrica dedicata ai film in uscita a settembre spero vi sia piaciuto speriamo di essere stati utili ci risentiamo per questa rubrica a fine a fine mese per parlare dei film di ottobre intanto grazie Pierpaolo e ciao a tutti buon divertimento